E questo qua è veramente un tizio pericoloso, che oltretutto al di là delle nostre vicende nigeriane ci fa fare anche pessime figure a livello internazionale. Mi vergogno che all'ONU l'Italia sia rappresentata da qualcuno che parla con incredibile faciloneria di terrorismo islamico e di Siria, arrivando a uspicare tavoli diplomatici per risolvere i problemi dei tagliagoli islamici che solo un cretino può evocare, perché io la soluzione del tavolo diplomatico con i tagliagoli islamici veramente non riesco a intuirla, l'unica soluzione è la forza. L'unica soluzione con chi taglia la vita, taglia la gola, brucia vive le persone, le crocifigge, è la forza. Se aspettiamo il tavolo diplomatico di Renzi ce li troviamo sul pianerottolo di casa nostra, col giubilio e alle porte. Poi c'è quell'altro fenomeno di Alfano che dice che Salvini è razzista e se ci sarà un attacco terroristico è colpa mia. Ecco, che il Ministro dell'Interno arrivi a fare deliri del genere, che il Presidente del Consiglio parli di diplomazia per risolvere i problemi dei tagliagoli, mi rende estremamente preoccupato di essere un cittadino di questo Paese.